Alla presenza del presidente Massimo Moratti si è svolto l'allenamento di quest'oggi, allenamento programmato in mattinata a cui ha partecipato da spettatore ovviamente anche il nostro presidente che è venuto per stare vicino e salutare e incontrare i ragazzi alla vigilia, all'antivigilia, insomma manca ancora qualche giorno in vista del match contro la Juventus di domenica sera. Ma andiamo per ordine, parliamo invece di quello che è accaduto in campo dove ci sono delle notizie sicuramente positive relative a chi ha lavorato in maniera magari diversificata nei giorni scorsi. Ad esempio Guarino e Stankovic hanno effettuato l'intero lavoro con i compagni di squadra. Non citiamo più Kivu perché ormai da qualche giorno sta lavorando insieme ai compagni facendo a pieno il proprio allenamento. Alvarez ha effettuato del lavoro diversificato, lavoro personalizzato per Luscio nella giornata odierna. Snyder, lui ancora sta lavorando in maniera personalizzata, diciamo che è un po' più indietro rispetto agli altri in vista della prossima partita. Anche per Andrea Ranocchia lavoro personalizzato e poi parte conclusiva con i compagni di squadra. Come vedete la personalizzazione rimane un tema sempre di grandissima attualità. Che cosa hanno fatto però? Abbiamo detto che si è venuto i compagni per la parte finale. Allora, prima parte di lavoro con riscaldamento. Una parte sicuramente importante è stata quella centrale con del lavoro di natura tattica. Da segnalare poi una serie di esercitazioni, quindi tecnica individuale abbinata al movimento e alle giocate dei singoli. Poi parte finale, quella a cui si è aggregato anche Andrea Ranocchia, cioè partitella a campo ridotto. Partitella che è stata disputata nel campo alle mie spalle, quello con la tribuna. Insomma, una buona giornata di lavoro, una giornata di avvicinamento ulteriore alla sfida di domenica.